Ennesimo colpo di scena di Elon Musk e del suo ultimo giocattolo Twitter, il social sul quale l'enfant prodige sembra aver perso il suo tocco di remida. Il limite dei post che si possono leggere ogni giorno, da parte degli utenti senza spunta blu, è infatti limitato a 300 al giorno. Detta così, sembra un tentativo maldestro di attirare di nuovo gli utenti pubblicitari, soprattutto dopo la nomina di Linda Iaccarino, ex direttrice marketing di una delle più grandi aziende mediatiche del mondo e adesso a capo di Twitter. La ragione invece forse è da ricercare nel lancio in questi giorni dell'anti-Twitter da parte di Meta, Trez, l'app di microblog che insieme a ChatGPT toglie il sonno al miliardario patrono di Tesla. Un'altra notizia che non deve averlo rassicurato è infatti che Erika Marsh, influencer libera all'americana di Twitter, non esiste e che l'account è un fake con oltre 130.000 followers. Immagini false, dunque, e contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Ce n'è abbastanza per far correre i ripari Musk, preoccupato che i concorrenti prelevino le preziosi informazioni e i preziosissimi dati personali degli utenti, profilandoli dalla sua piattaforma. Se a questo aggiungiamo che a novembre comincerà la grande giostra delle elezioni americane e che nel 2016 furono vinte da un outsider che però sapeva usare Twitter molto meglio della sua navigata avversaria per non parlare dell'email, c'è da preoccuparsi anche guardando l'ultima mossa del Guitto Prigozin che ha chiuso la sua fabbrica dei troll a San Pietroburgo che si diceva avessero influito proprio sulle elezioni del 2016 e sul referendum della Brexit.